e che te lo dire facciamo che si sente si sente Fabio mi si sente Fabio Fabio 1,2,3 prova Fabio mi senti Fabio Fabio ora puoi riprendere puoi scendere anch'io si, ti riprendo io questa è tutto guarda 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 Grazie. 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 Tra 20 minuti. E come fa con le batterie? Grazie. Eh, se devo vedere le batterie, prima, seconda, terza. Ho male. Oh, tu mi fai un fischio, mi dici... Si sente. Se non si sente, tu mi fai un fischio. Tra 20 minuti, comunque, eh. Madonna, è caro. Io ho una schiena. Si vede la piazza? Si vede la piazza? Una sauna si sta facendo. Ricordiamo sempre agli atleti dell'alto di passare poi al salto all'alto del sito. raccomandiamo tutti di bagnarsi il più possibile la testa e di idratarsi. Una fontanina la trovate circa di 80 metri. la testa e di idratarsi. E' qui Fornesi? Nella prima? No. E' qui Fornesi? Allora è qui. Fai 100? Salto in lungo? Si. Oh, inquadra, eh. Inquadra lui, salto in lungo. No, no. Inquadra lui, salto in lungo. Come è niente oggi? No, ho fatto ieri, il 1.500. Come andai? Bene. Ti? Ti pronto? Per oggi? Bianchi? Eccolo lì. Dagli! Dagli lì! Eh, ora si gira. Troppo non c'è tra. Bianchi, tutti con te! E in pratica si parla Dopo si fa un po' l'intervista anche ai bianchi Appena arriva Dio mi sei sembrata la cara E di un po' te lo rivedi Te lo risenti tutto Tiziano Senti tutto poi Allora chi si sente? Vai Ma io poi lo arrivo Ora tra poco partano Siamo al secondo punto di soli Pire Pire Per staccare e per non parlare basta che tolgo questo No Per non parlare Ma le nuove non senti Tu dici questo e poi tu lo riaccendi E per vedere che è acceso basta vedere il Comunque tu cerca di tenerlo piano Regi Allora Cominci a metterlo a cantare Mi presenti i sentimenti Allora 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 tutti presenti sono Francesco Nobile vi sto presentando le serie 200 metri nella prima serie una cossia ma questo se mi dà noia posso tenere l'attenzione? l'importante è tenere la premiazione per la premiazione del 100 metri noi andiamo già pronti la prima e la seconda ci manca Burtini Francesca dell'Atletica Prado l'ultima chiamata per la premiazione del 100 metri non c'è non c'è no no Ora sono in diretta. Ora ti fa la teleronica della fabbola di Stim9. No, no, io sono in diretta. Ora va all'arrivo, lui è presenta. C'è, c'è in diretta. Se va su Facebook... C'è in diretta. 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 si è lui gli mandi l'amicizia poi la vede è entrato? si scendo e già dire la prima si intanto la prima serie Fornesi Tommaso della Toscana Atletica Futura con Magno Andrea che è lì e e grazie 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 intanto presentiamo la seconda serie con Martino Giastro della Toscana Atletica Futura presentiamo anche Forse il Politi Gabriele della Toscana Atletica Futura presentiamo anche Sicchi Gabriele Pistole Atletica 1983 Plensic Gianmarco come senti nulla? come senti nulla? ma non ho fatto anche l'intervista senti senti si guarda funziona ora? funziona ora? è sicuro? funziona ora? funziona ora? grazie 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 Fabio mi senti? Fabio mi senti? ok allora in prima serie Gianassi Martino per la Toscana Atletica Futura Corsi Lucas per Assigiglio Rosso in terza corsia invece Ippoliti Gabriele per la Toscana Atletica Futura Sacchi Gabriele per Pistoia Atletica 1983 Plensic Gianmarco Toscana Atletica Futura Falsetti Federico Assigiglio Rosso in Firenze Gargani Giulio Pro Sport Atletica Firenze e Palmieri Cristian Toscana Atletica Futura Fabio Fabio sei Grazie. 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 Fabio. Nulla? Nulla? Fabio. Nulla? E? Non c'è nulla. Fabio? 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 Allora, secondo me è troppo lontano. Eh? Eh...oh, se li porto lì a parlare? Se li porto lì su a parlare? O qui sotto? Se qui vengo... Fabio? Fabio, ora mi senti? Fabio? Fabio? Fabio, ora mi senti? ... 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